5.692 nuovi contagi in Sicilia nelle ultime 24 ore a fronte di 35.727 tamponi processati. Una nuova impennata di casi rispetto ai 1.818 di ieri e infatti il tasso di positività sale al 16% rispetto al 13,8% del giorno precedente. Le guarigioni però superano il dato dei nuovi contagi, sono state ben 5.769. Altre 19 le vittime che fanno salire a 10.282 il bilancio dei decessi. Attualmente in Sicilia sono 148.307 gli attuali positivi ma di questi solo 1.027 sono ricoverati in ospedale. Per ciò che concerne la ripartizione dei nuovi casi nelle province siciliane sono 541 nuovi contagiati ad Agrigento, 1.457 a Palermo, 1.064 a Catania, 1.078 a Messina, 538 a Siracusa, 567 a Trapani, 340 a Ragusa, 284 a Caltanissetta e 201 a Denna. Intanto l'Aspi di Agrigento ha individuato presso tutti i distretti sanitari della provincia gli uffici in cui possono rivolgersi i cittadini che hanno ricevuto dall'Agenzia delle Entrate la sanzione pecunaria per inadempienza alla vaccinazione anti-Covid in virtù dell'obbligo per i cittadini dai 50 anni in su. Verso la sanzione di 100 euro è possibile produrre l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità ad effettuare il vaccino. Sul sito istituzionale dell'Aspi di Agrigento è consultabile l'elenco contenente le sedi di ciascun ufficio, i giorni e gli orari di apertura, le mail e i recapiti telefonici di riferimento per produrre la documentazione.